ancora in diretta dalla chiesa di brognaturo madonna della consolazione con il signor giuseppe mangiardi buongiorno senta come mai la prima messa alle 5 perché questa è una tradizione antichissima e secolare che quando hanno visto questo quadro quando è stata la rottura di questo muro è comparsa questa madonna c'è la gente si è avviata per la scoperta di questo quadro quindi la chiesa i preti sono messi in opera per vedere le messe in onore di questa madonna della consolazione che è una madonna che miracolosa quindi la gente veniva da fuori in pellegrinaggio a vedere questo quadro e la gente si porta a vederlo così intanto e quindi hanno deciso di farla presto ecco la tradizione è stata un pede di brognaturo che ha deciso di dire la messa diciamo prima dicevano alle 4 e mezza si suonava alle 5 era la messa la prima messa poi la seconda messa alle 7 la terza alle 10 e poi la sera i vestiti senta come la vede quest'anno la festa di brognaturo con il coronavirus e guarda la festa di brognaturo come tutte le feste come quelle di serra quella di spadola quella di simbario quest'anno ha provocato diciamo un dispiacere noi avendo questa tradizione bellissima ci evita di andare oltre alla nostra tradizione il covid ci ha penalizzato su questa un saluto agli emigranti di brognaturo che ci guardano gli emigranti di brognaturo emigranti dell'america australia germania insomma tantissimi tantissimi infatti fanno ogni anno le raccolte per questa festa di brognaturo va bene grazie buona giornata